Vittoria e sorpasso in vetta, miglior esito non poteva esserci per il Bitonto che al Città degli Ulivi archivia la pratica Brindisi con un secco 4-0 che significa sesta vittoria consecutiva e posizione da capolista nel girone H di Serie D, complice il pareggio in contemporanea del Cerignola. Match che comincia con 18 minuti di ritardo a causa di un malore di un tifoso sugli spalti, subito soccorso dai sanitari e trasportato al divenere di Brindisi, ora è in buone condizioni. Tornando alla partita, ragazzi di De Luca in campo con qualche modifica rispetto a domenica scorsa, dopo il fischio d'inizio la prima opportunità è di marca Brindisina, minuto 3, triarico, serve Periale che conclude a giro dal limite, palla sopra la traversa. All'ottavo rispondono i padroni di casa con l'appoggio di Lattanzio per Danna, diagonale al lato di Poco, bisogna attendere il 24esimo per una nuova iniziativa bitontina, percussione centrale di Stasi, palla per Riccardi che prova la botta, deviazione in angolo. Dallo stesso corner, Danna trova Petta che di testa impegna, impresa cervellera, il bitonto insiste e al 34esimo trova il vantaggio con l'imbeccata di Lattanzio per Santoro che si invola verso la porta e supera l'estremo difensore Brindisino con un rasoterra che passa tra le gambe del portiere e 1-0 per l'attaccante, la rete numero 10 in campionato. Il Brindisi non reagisce, al 39esimo subisce il raddoppio dei padroni di casa, Stasi crossa dalla destra per l'incornata vincente di Danna e 2-0 Città degli Olivi in festa. Prima dell'intervallo i ragazzi di De Luca sfiorano anche il Tris con Santoro che davanti alla porta non conclude e serve Lattanzio, chiuso dalla difesa. Nulla di fatto e squadre negli spogliatoi. Ad inizio ripresa mister Di Costanzo sceglie alcuni cambi per provare a rientrare in partita ma è il bitonto a prendere nuovamente l'iniziativa. Passano nemmeno 120 secondi e Addae di testa manda alto sopra la traversa. Al tredicesimo ancora il Brindisi, cross di Silvestro da sinistra, Lopez ci arriva con la testa, Lonoce mette in angolo con l'aiuto della traversa. Brividi per De Luca che manda in campo il neorivato Lacassia e proprio il classe 2002. Al sedicesimo si rende pericoloso su invito di Danna, difesa che respinge, poi arriva Turitto, palla fuori di non molto. Al diciannovesimo Lattanzio prova la girata sugli sviluppi di un corner, para Cervellera. Al ventiduesimo cross di Turitto, Santoro cerca la prodezza col colpo di tacco ma il portiere Brindisino è attento. La terza rete arriva comunque al trentaduesimo, azione ben manovrata, Addae manda in porta Lattanzio che con un preciso diagonale fa 3-0. Partita in cassaforte per i neroverdi e quarta rete consecutiva per l'attaccante, sette in totale sin qui. Partita che rallenta, poi al quarantesimo Riccardi cerca e trova Santoro che costringe Cervellera a mettere in angolo. Bitonto sul velluto e dallo stesso corner arriva il poker, Manzo pesca in aria l'anzolla, colpo di testa sul palo e poi in rete. 4-0 è il match che termina qui, il Bitonto è capolista solitaria. Nel prossimo turno, neroverdi di scena Sorrento, Brindisi che ospiterà la nocerina.